Buongiorno a tutti, mercoledì 10 marzo 2021, siamo all'indomani della clamorosa eliminazione della Juventus in Champions League ad opera del Porto, ancora grande stupore dopo quello che è successo ieri sera, la Juve ha vinto 3-2 ma non c'è stato niente da fare, è finita praticamente 4-4, 2-1 a Porto per i Lusitani, 3-2 per i Bianconeri a Torino ma non c'è mentre la Juve ne ha segnato uno solo, Pascia al Porto, Juve fuori agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo dopo Lione, tocca quest'anno al Porto fare fuori la Juventus mentre l'anno precedente nei quarti di finale era stato l'Ajax che però è una squadra quell'anno molto forte, a fare fuori la Juve che conferma di avere dei problemi forse anche di carattere psicologico nell'approccio alle partite che contano di Champions League e pensare che quest'anno aveva fatto un ottimo girone eliminatorio la Juve, nell'altra partita della giornata di ieri Dortmund e Siviglia hanno pareggiato 2-2 con doppiette di Hollande e Nesiri, Hollande per il Dortmund e Nesiri naturalmente per il Siviglia e nella conferenza post partita Pirlo ha cercato un po' di minimizzare quanto accaduto ma nel senso per quanto riguarda gli effetti futuri di questa sconfitta, sapranno assorbire il colpo, sapranno andare avanti, ricordiamo che la Juventus è al momento al terzo posto in campionato e in finale di Coppa Italia e ha vinto la gara andata alla finalissima della Supercoppa Italiana 2-0 contro il Napoli, cioè sarà ora la gara di ritorno e la Juve ha un vantaggio di due gol che dovrebbero essere sufficienti per conquistare almeno la Supercoppa Italiana ma è stato anche molto chiaro, Pirlo molto onesto, abbiamo detto noi in queste due partite abbiamo commesso quattro errori, quattro errori ci sono costati quattro gol e chiaramente se tu fai quattro errori a questi livelli è giusto che vai fuori, penso che sia stato molto onesto perché è stato regalato un gol al primo minuto nella gara d'andata a Tarimi, un retro passaggio verso il Pottier assolutamente infelice, il secondo gol ha opposto idem nei primi minuti del secondo tempo con Marecà che si è bevuto tre difensori, ha fatto quello che ha voluto, anche lì squadra che è rimasta mentalmente negli spogliatoi, il gol di Chiesa aveva riaperto tutto, Chiesa è stato un po' il grande protagonista di questa doppia sfida con tre gol che ha segnato, di più non si poteva veramente chiedere, ha fatto un po' il CR7, ha fatto il CF7 perché Cristiano Ronaldo in queste due partite non è che abbia lasciato proprio una grande impressione, sembrava quasi, non lo so, un po' frenato proprio dal fatto di giocare contro i suoi tra virgolette fratelli lusitani, portoghesi, ma un po' non lo so, come avere il freno a mano tirato, comunque Pier lo ha detto quello che è la verità, ma io mi sarei soffermato, io avevo risposto in un modo diverso, avevo detto cosa non è andato, non è andato che al minuto 92, mi pare che fosse, questo grandissimo tiro di quadrato da destra ci è stampato contro la traversa, perché se fosse entrato nel pallone staremmo raccontando tutta un'altra storia, la Juve avrebbe fatto una grande rivolta, sarebbe andato nei quarti di finale, tutti saremmo alloggiare, capito, magari la doppietta di Chiesa, oppure certe scelte di Andrea Pirlo. Fabio Capello in conferenza, diciamo, cioè un meglio in collegamento diretto, ieri sera ha attaccato duramente la disposizione molto approssimativa della barriera di Juventina in occasione del gol del 2-2 del Porto, dicendo che è un errore gravissimo quello che è stato commesso, per un giocatore che guadagnano 31 milioni di euro l'anno, come Cristiano Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo ha un ingaggio di 31 milioni di euro l'anno, queste sono le cifre, ragazzi. Non può in barriera girarsi, mostrare superficialità, mostrare addirittura paura, ma di cota, del pallone, di essere colpito dal pallone a questi livelli, con tutti i contrasti, le botte che prende tutte le partite, si è girato, Cristiano Ronaldo, Morata salta coffamente, la palla salta, passa sotto. Mi sono rivisto con attenzione questo gol tante volte, ieri sera avevo detto che Chiesny, purtroppo non aveva visto partire la palla, è stato sorpreso, rivedendola meglio, questa azione, mi sono invece convinto che forse Chiesny poteva fare qualcosa di più. non è stato proprio reattivo, trattandosi di un grande portiere, perché questo è un grande portiere, è talmente bravo che ha lasciato a lungo in panchina Alisson nella Roma, quando giocava nella Roma, Alisson era un giocatore che aveva delle qualità evidentissime, eppure per un anno è stato dietro a Chiesny, un grande portiere a Chiesny, anche se se ne parla sempre poco, perché non è un personaggio, non è di quelli che si fanno i tatuaggi, non è di quelli che si fanno le acconciature strane, non è quello che si mette le maglie sgargianti, è un portiere fortissimo, invece di grande affidabilità, che sbaglia pochissimo, purtroppo ieri, secondo me, poteva fare qualche cosa di più, non ha avuto la reattività di dare il colpo proprio secco a quel pallone nella parata per cercare di tirarlo fuori dalla porta, ha cercato di prenderla quella palla, e la palla purtroppo è sbattuta contro la mano e entrata in porta, cambiando quindi, scusatemi, l'allergia al pollo inesolita, cambiando quindi le sorti di questa partita che sembrava ben avviata ormai, ma purtroppo, anche nei tempi supplementari, la Juve non ha dimostrato di avere quella determinazione nella ricerca del terzo gol, hanno vivacchiato troppo sulla superiorità numerica, grandi meri del poto che hanno giocato tutto il secondo tempo, tutti i tempi supplementari in inferiorità numerica, c'era Lidorm una volta che diceva un po' tal serio il faceto, diceva, ma noi dobbiamo avere paura di rimanere in dieci, di giocare in dieci, perché in dieci si gioca meglio che in undici, era tipico, no, questo suo modo paradossale di proporre delle interpretazioni in Nils Lidorm, però cosa voleva dire in realtà il grande barone? Voleva dire che tutto sommato si può giocare anche in dieci, non è mica detto che per forza perdere se ti buttano fuori un giocatore, l'abbiamo visto proprio ieri, abbiamo visto ieri, il porto alla fine viene superato da questo gol di testa di Rabiot, direttamente sul calcio d'angolo, sul palla inattiva, ma aveva praticamente strappato il 2-2, quindi pur giocando chi ha in parte la partita in dieci uomini, si può giocare benissimo. Juventus che scena in campo ieri sera alle ore 21, con Shetny fra i pali, quindi Quadrado, Bonucci, Demirano e Sandro in difesa, Sandro, Alexandro. Poi la linea mediana è stata Chiesa, migliore in campo, Arthur, Rabiot, Ramsey, le punte sono state, Morata e Ronaldo, uno più fuori fase dell'altro, ieri sera sono stati purtroppo il punto debole di questa mattina, Morata e Ronaldo, non hanno proprio ingranato, non so il motivo. hanno risposto i luci danni con Marchesin fra i pali, Manafa, Mbemba, Pepe e Sanusi in difesa, l'ottimo Corona, Oliveira, che è stato il grande protagonista, Uribe e Otavio a centro campo, e Maregà e Taremi, la coppia assolutamente ostica, molto forte fisicamente, sono stati due punti, poi Maregà e Taremi è stato espulso, ma io non lo so, dice Pillo, abbiamo parlato con Agnelli, abbiamo parlato della partita, abbiamo parlato di un progetto che continua, il progetto ha appena cominciato, il progetto ha appena cominciato, il progetto è di una squadra che ha vinto nove scudetti consecutivi, lo so, ha appena cominciato il progetto, ha vinto Coppa Italia, ha vinto Supercoppa Italiana, con la Lega è arrivato due volte in finale di Centro League, il progetto ha appena cominciato, non mi pare proprio, il progetto Pirlo, forse ha appena cominciato, non lo so, se è al terzo posto, se è uscito dalla Champions, non è che mi sembra che stai andando proprio, stai facendo chissà che cosa, comunque, il progetto ha appena cominciato, parliamo del progetto, diciamo che, innanzitutto, dovete capire perché questa squadra ha questi problemi, allora, un problema è che, secondo me, quando noi andiamo ad esaminare la mediana di questa squadra, ieri, in una partita fondamentale, della stagione, la Juve affronta il posto con questa mediana, Chiesa Arthur, Rabiot e Ramsey, allora, dove voglio arrivare io, voglio arrivare che con Chiesa Arthur, Rabiot e Ramsey, tu non hai una squadra, per vincere la Centro League, non hai una squadra neanche per arrivare in finale di Centro League, perché questi giocatori hanno dei limiti, Ramsey è un giocatore che, nella partita, non è continuo, Rabiot, idem, Rabiot è quello che ti fa il gol di testa, come ha fatto Ie, ma anche quello che poi c'ha il pallone al limite dell'area, in buona posizione, e tira 5 metri sopra la traversa, un giocatore un po' incostante, non è un giocatore di sicuro affidamento, ha un grande fisico, ha una grande gamba, ha un grande passo, ma non solo con questi giocatori, non vince la Centro League, Arthur, ieri, io non so se voi, vedendo la partita, ve ne siete resi conto, ma ha finito per diventare una spina nel fianco della Juve, però, perché in 11 contro 10, qual è il discorso? Che tu devi essere il più veloce possibile, a far ripartire l'azione, perché questi avversari, sono in inferiorità numerica, quindi, quando soprattutto, quando li prendi in velocità, loro restano in difficoltà, perché sono di meno, quindi, se tu, Arthur, l'ex Barcelona Arthur, quando ti danno la palla, fai un passo in avanti, poi ti giri su te stesso, ritorni indietro, giri su te stesso, voi vi ricordate, un movimento che faceva Pizzarro, Claudio Pizzarro, Davide Pizzarro, Davide Pizzarro, il cileno della Roma, nella Roma di Spalletti, c'era il 4-2-3-1, e Totti fece a lungo, il falso 9 di questa squadra, e, c'era Palletti che dicevano, questo non era il 4-2-3-1, è il 4-2-3-0, perché Totti non si capisce dove gioca, non si sa un po' di qua, un po' di là, 4-2-3-0, Pizzarro faceva questo movimento, che faceva Arthur, però lo faceva, infatti, in impostazione davanti alla difesa, faceva questa specie di Veronica, e molti si indispettivano, ma a che serve questo movimento? Serve a far disporre gli attaccanti, in un certo modo, a dargli il tempo di salire, i due esterni, d'attacco, di disporso in un certo modo, nel caso di ieri, invece, questo movimento che faceva Arthur, non ha fatto altro che rallentare, costantemente, le azioni d'attacco della Juventus, perché dava il tempo ai portoghesi, gli dava quei 30 secondi in più, per rientrare, ritornare sui propri passi, e rioccupare la propria posizione difensiva, è stato assolutamente deleterio, mi meraviglia che un allenatore, che era così bravo a giocare come Pirlo, non abbia corretto questa lacuna nell'impostazione, quando è che è andato in difficoltà il porto? Quando veniva preso di infilata, quando veniva preso in velocità, dalle percussioni straordinarie di chiesa, dalle palle in verticale, dai filtranti per Morata, lì che sono andati anche molto in difficoltà, poi hanno avuto però sempre la capacità di fare densità in area di rigore, al limite dell'area di rigore, di rompere le scatole a tutti gli attaccanti juventini, con continui raddoppi, con un'abnegazione totale alla fase difensiva da parte di tutta la squadra, e sono riusciti sempre a chiudere gli spazi. La Juve si è incaponita a buttare questi palloni alti, in mezzo, senza rendersi conto che il porto sulle palle alte si difende molto bene, anche perché molto spesso, come avete notato, soprattutto sulle palle inattive, vanno in ripiegamento gli attaccanti, che sono molto bravi sulle palle alte, ne ha prese tante, per esempio Maregà, non era quella la chiave di lettura della partita, la chiave di lettura, che è quella che probabilmente è mancata, e è costata questa eliminazione, era prendere di infilata negli spazi, nelle ripartenze, con il dai e vai a due tocchi, questa squadra sulle fasce, e quindi cercare di andare in verticale, con il taglio, diciamo, dalle fasce verso il centro, dove si potevano praticamente infilare i vari Cristiano Ronaldo e Chiesa. Ma Cristiano Ronaldo, come dicevo prima, è stato anche un po' la nota dolente di questa partita, perché non è assolutamente stato il CR7 che conosciamo, abbiamo visto spesso lamentarsi, dimostrarsi insofferente, arrabbiato quando sbagliava qualcosa, ma il rapporto tecnico però non l'abbiamo visto, adesso volando sul discotto della barriera, che anche lì purtroppo capello ha ragione, perché se a Ronaldo non si può in una partita del genere, in un momento del genere, stare in barriera, ti giri, non sei operativo, non sei attivo nell'azione che può essere il risultato decisivo, e purtroppo è risultata decisiva, perché a suo punto capisco di più Morata, che se un altro salta, perché si aspetta un tiro sopra la barriera e cerca di intercettarlo, anche lui però maldestramente, girandosi, cioè la disposizione della barriera in occasione del 2-2 nel porto, purtroppo è da censura, è a Dione Capello, non ci sono attenuanti, perché tu in barriera devi mettere dei giocatori che certamente saranno degli attaccanti, perché chiaramente i difensori sono impegnati a difendere gli offensivi avversari, però questi giocatori devono sapere cosa devono fare, perché io come dicevo anche ieri sera, a un certo momento, in una situazione così delicata, sul 2-1 a pochi minuti, a pochi minuti, dalla fine dei tempi supplementari, io mettevo un giocatore, come si fa ultimamente, sdraiato in orizzontale, dietro la barriera, sdraiato un giocatore, e quindi andavo già a bloccare quel pallone, e avevo costretto l'oliveira a non tirare la totela, perché quello già vedeva che c'era uno, sdraiato lì, non mi conviene tirare la totela, perché tanto me la non accetta, e tiro alto, e magari avrebbe sbagliato, stiamo parlando di altre cose, quindi, io, a conclusione di questa analisi che vi propongo, e tra l'altro vi ringrazio, perché negli ultimi due giorni sono stato un boom di iscritti al mio canale, siamo arrivati, mi pare, di avere visto quasi a 200 iscritti, sono molto contento, vi ringrazio tanto, siete, il mio stimolo, la mia linfa vitale, lo stimolo a fare meglio, a continuare, io a conclusione, dicevo, di questa mia analisi, oggi, si dà molto la croce su Cristiano Ronaldo, anche sui social, si dice, la Juve ha comprato Cristiano Ronaldo, vince la Champions, invece ha accolto solo l'eliminazione, eccetera, anche andava meglio quando non c'era, eccetera, e vorrei dire questo, ma Pirlo è all'allenatore per gestire questo momento della Juventus dopo nove scudetti consecutivi e la ricerca della vittoria del Champions, io dico che Pirlo non aveva esperienza per fare l'allenatore a questi livelli, sarà stato anche un grandissimo giocatore, aveva vinto i mondiali, ha un carattere particolare, può essere anche una qualità, questo suo, non essere mai polemico, essere sempre molto tranquillo, avere questo profilo sempre molto basso, io non lo so, a me non mi sembra che la squadra lo segua molto Pirlo, vi dico la verità durante la partita, questa è la mia impressione, ieri l'abbiamo visto anche protestare a fine partita con l'abito perché per questo rigore su De Ligt, Dona Cesarini, per me c'era pure quel rigore, però tu quando guidi la Juve, una squadra come la Juve, che quest'anno dall'alto la Juve ha avuto delle perdite causate dal Covid, perché purtroppo tutte queste partite a porte chiuse che vengono giocate sono queste squadre che fanno sempre degli incassi molto elevati, è chiaro che ogni mese mancano dei soldi, ma mancano tanti soldi, si parla di milioni di euro, quindi la Juve è in un momento un po' particolare, sono quelle società che hanno perso veramente tanto in quest'anno di Covid, ora arriveranno a mancare anche i diritti televisivi derivanti dalla Champions League di quest'anno, per come dicevo ieri, vi spiegavo ieri, la prova ai quarti di finale valeva 10,5 milioni di euro, non sono certo bruscolini, era Pirlo, l'uomo adatto, non lo so, io ho l'impressione che la Juve sia stato un po' di delirio di onnipotenza l'anno scorso, perché, non lo so, esonerare un allenatore che ha vinto lo scudetto secondo me non è una cosa sana, io non so quali erano veramente i rapporti Fassari, Agnelli, Fassari e la società, Fassari e i giocatori, perché Sarri non è che ha proprio un carattere dei più facili, però è un allenatore che l'anno prima aveva vinto l'Europa League con il Chelsea, ha vinto lo scudetto anche se ha fatica con la Juve di pochi punti, però, sì, certamente il Champions League è stato eliminato agli ottavi, anche lui, con il Dalione, quello, capisco che era una sconfitta, però, era il primo anno, era il primo anno, cioè, io ho un'altra possibilità e la verità era perché Sarri aveva comunque dimostrato a Napoli di essere in grado di fare un grandissimo calcio e aveva anche però dimostrato di aver bisogno di tempo per arrivare a fare questo grandissimo calcio che è la stessa situazione che si è creata al Celti dove inizialmente non è che Sarri sia andato molto bene, però ci si è insistito e alla fine della stagione ti sei ritrovato in Bacheca un'Europa League perché se tu a Sarri gli dai il tempo di lavorare di far metabolizzare i giocatori i suoi schemi Sarri il gioco del calcio ve lo fa vedere anche molto bene Napoli, l'abbiamo visto, il Napoli-Sarri era una squadra che in quegli anni ha giocato uno dei calci tra i migliori d'Europa poi aveva un piacere vedere giocare il Napoli giocavano talmente bene che erano diventati prevedibili perché sembrava la Playstation ormai sapevamo tutti quali erano gli schemi lo sapevano molto bene anche poi gli avversari giocava sempre con gli stessi giocatori Sarri sempre le stesse cose faceva e alla lunga era diventato prevedibile ma ciò non toglie che giocava veramente molto bene quel Napoli gli avversari gli aventi stessi lo consalti insomma questa è la sostanza Pirlo con questi giocatori fa sto 4-4-2 molto scolastico dice lui l'aggiornamento che fa io davanti c'ho Chiesa c'ho Cristiano Ronaldo c'ho Morata poi gli avrò Di Bala qualcuno me li segnerà i gol la difesa la copro la proteggo bene e va avanti ma invece purtroppo come vedete bisogna anche fare i conti con gli avversari ieri il Potto in un certo senso ci ha dato una lezione perché è una squadra che in 10 contro 11 una squadra che ha dei buoni giocatori cioè Colonna è un buon giocatore Pepe è un ottimo giocatore Oliveira è andato benissimo ma non è che mi sembra chissà che non mi sembra Frank Reich ha dei tempi d'oro le due punte sono due mestieranti sono molto dotati fisicamente ma non sono certamente due campioni eppure questa squadra non ha rinunciato a giocare il merito del Potto è stato sul 2 a 1 in inferiorità numerica quando qualsiasi squadra italiana avrebbe fatto le barricate loro non hanno mai rinunciato a ripartire voi vi andate a rivedere la partita anche quando hanno la palla in zona difensiva loro non si mettono a fare il giro palla quello per prendere tempo per far scorrere i secondi loro cercano invece il lancio lungo cercano il fraseggio di prima in verticale hanno sempre cercato di giocare questo è un merito che devo riconoscere a Sergio Concecao che ha giocato tanti anni in Italia l'ho già detto ieri con Lazio e Pamm ha probabilmente anche imparato tante cose una cosa che ha imparato è che se tu ti metti in difesa mezz'ora alla fine il gol lo prendi e questa è la sostanza perché se ieri il Potto si fosse veramente messo a fare le barricate e state tranquilli che fosse di buttare il pallone in mezzo o usciva fuori un rigore o usciva fuori un colpo di testa magari su un cross eccetera alla fine un autogol qualcosa il gol arrivava invece loro hanno giocato hanno spezzato quindi il gioco non hanno mai rinunciato a offendere a rompere le scatole in tutti i modi alla Juventus la Juventus quindi attaccava però con quell'atteggiamento di dire sì devo fare il gol però tutto sommato siamo 2-1 all'abbiamo perso 2-1 stiamo pari sì devo fare il gol ma c'ho tempo di farlo attenzione a non prenderlo devo anche coprirmi e che è staccata quella cosa di dire non andiamo proprio all'attacco perché il gol verrà sì il gol verrà però se non ti segnano gli altri se ti segnano gli altri poi di gol ne devi fare 2 non c'è più tempo il gol di Rabiot il 3-2 è stato un caso un calcio d'angolo la pallina attiva non hanno mancato bene forse si erano un po' rilassati dopo il gol del pareggio ma è stata un'azione casuale insomma la Juve purtroppo ieri ha avuto la sfortuna di avere alcuni giocatori offensivi che non so per quale motivo hanno sbagliato la partita un altro che ha sbagliato la partita è stato Kuluseschi che quando è entrato ha fatto dei gran casini proprio un giocatore così forte mi impressionava quando ero nel parma ieri l'ho visto molto confusionario scelte sempre sbagliate sempre rischiose mai al servizio capito dei compagni sempre cercare l'uno contro uno la partita finisce proprio con un'azione di Kuluseschi che cerca di portarsi avanti la palla da solo verso la linea di fondo la palla poi esce se l'è portata da solo a fondo campo è un'immagine proprio della partita quella mentre è entrato bene Bernardeschi che ieri sembrava proprio in giornata sulla fascia finissima forse andava giocata prima la carta di Bernardeschi Morata non mi ha convinto per niente di Ronaldo ho già detto hanno sbagliato purtroppo la partita questi due giocatori non so forse erano troppo nervosi evidentemente la Juventus soffre troppo la Champions League la spiegazione che io trovo è questa bene quindi questa è stata l'analisi di Juventus Sport con quindi le dichiarazioni di Pirlo l'attacco di Fabio Capello a Pirlo che secondo me è un attacco fondato Fabio Capello è un uomo che sta nel calcio da una vita dice quello che pensa si può permettere di dire quello che pensa perché molto spesso dice cose che sono giustissime purtroppo nella vita e nel calcio gli errori si pagano la Juventus in queste due partite contro il Porto come lo stesso Pirlo molto onestamente ha commesso troppi errori e alla fine è uscita dalla Champions League grazie a tutti